Due amici si incontrano dopo tanto tempo e parlano del tempo che è andato e dei cambiamenti che ha lasciato dietro di sé. Il titolo della canzone è Tourner in Dre. Dopo questa canzone che ho appena citato, Neck ci canterà un brano di Marco Dieci e Renato Borghi che si intitola L'Untandet Che. Ma ora di Alberto Bertoni, Pierangelo Bertoli, Tourner in Dre. Ce la fanno ascoltare Alberto Bertoni, Alberto Bertoli e Neck. Come andiamo? Ma io vorrei sentire una sassuolo più accesa. Come? Eccola, eccola. Ma capite tutto quello che diciamo, capite tutto quel kajam nuetero o no? Chi è di sassuolo, alzi la mano. Chi è siciliano, alzi la mano. Chi non è di sassuolo? Vabbè dai, andiamo avanti lo stesso. Prego maestri! 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 Adesso vado a San Convito che avevo a fare e poi anche a me prima che saremmo avrei comprato da fumare o a di bandera a fare un giro per al paese perché non saprei più cosa dire e poi avrei mai vinto a dare il paese Magari a Tauro non è travolta sempre che è della vaga bene a fare come me non calgiva i tanti cunti a dare Ma dai, sta che un momento vuoi prendere a son contendere i retres a maffat bom se eri parler to la chitarra a cia mia ammiga sta malver Apsam canter fino al patei come se niente può scambier Cantam almeno un'altra volta C'è un trilotte che ho senza tanti ball senza ciaver senza padron Sì, dai Tornei in tre Tornei in tre Le come dirte mei che me però non è affeva un'altra cosa Tornei in tre Lei, il tornei in tre E cerco di vita mei finì Cangere più di vita in rosa 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 Grazie Bellissimo